ciao a tutti e benvenuti nel tutorial di oggi andremo insieme a vedere ferro per ferro come realizzare questo spettacolare motivo trafolato con un leggero effetto elastico che ci ha fatto innamorare di lui per il suo bellissimo effetto davvero guardate che eleganza è anche facilissimo da fare questa è la parte diritta del nostro motivo e questa è la parte rovescia come potete vedere sono praticamente uguali tranne questa piccola riga che si presenta a rovescio perciò questo è un motivo che adatto anche per i progetti come delle sciarpe in più questo è un motivo facilissimo da realizzare lo schema da ricordare è facilissimo perciò può essere facilmente adattato anche per i progetti più impegnativi come ad esempio un cardigan una gonna perché vi permette creare un gran bel effetto con un motivo facile facile da fare questo è un motivo che si adatta bene anche per i vari tipi di filato perciò anche per i vari tipi di progetti il nostro motivo è multiplo di due maglie e di solo due feri per il nostro campiocino perciò noi ora andiamo avviare un numero multiplo di male e precisamente 20 maglie per l'avvio utilizziamo l'avvio alla nordica se avete bisogno del tutorial dettagliato dell'avvio alla nordica lo trovate qui sotto nella descrizione del video ed ecco qui abbiamo avviato le nostre 20 maglie e partiamo con il primo ferro il nostro primo ferro lo andiamo lavorare tutto a rovescio quindi tutte le maglie lavorate a rovescio e questo il ferro di base non partecipa alla lavorazione del motivo perciò mettiamo la nostra base lavorando tutte le maglie a rovescio anche le maglie di vivagno ed ecco qui abbiamo messo la nostra base ora partiamo con la lavorazione con il nostro primo ferro del motivo la male di vivagno noi la spostiamo senza lavorare e ora partiamo con la prima coppia guardate un attimo lasciamo in sospeso le nostre due maglie della coppia entriamo con il nostro ferro di destra in questo modo in mezzo qui nel spazio che c'è subito dopo le due maglie creiamo una maglia lunga dopodiché andiamo lavorare le nostre due maglie e creiamo una diminuzione entriamo in asolo di due maglie e ricaviamo un'unica maglia diritta ecco che abbiamo lavorato la nostra prima coppia vedete abbiamo sempre le nostre due maglie abbiamo creato un forlino e una è un ricupero delle maglie però li abbiamo recuperato non con il gettato ma con la maglia lunga guardate entriamo in questo modo agganciamo il filo da di dietro tiriamo creiamo la maglia lunga dopodiché entriamo in asolo di due maglie presenti sul ferro di sinistra e andiamo creare una diminuzione a diritto guardate ed ecco che abbiamo lavorato anche la seconda coppia questa lavorazione in cui andiamo creare la maglia lunga e una diminuzione ci permette creare dei forlini con il filo quasi intrecciato guardate entriamo subito dopo due maglie in questo modo creiamo maglia lunga andiamo a fare una diminuzione per ribalanciare il numero delle maglie ed ecco abbiamo fatto anche la terza coppia e così dobbiamo procedere per tutte le nostre maglie presenti sul nostro progetto mantenendo questa lavorazione delle maglie a coppie in cui andiamo quindi creare maglia lunga semplicemente così e poi subito dopo una diminuzione e questo il nostro ferro di andata procediamo così per tutto il ferro appunto ed ecco qui siamo arrivati al fine del ferro andiamo fare la stessa cosa creiamo la nostra maglia lunga diminuiamo la nostra ultima coppia ed ecco la maglia di vivagno lavoriamo a diritto ed ecco che subito dopo il primo ferro abbiamo già i nostri bellissimi forlini e i bellissimi intrecci che abbiamo creato senza i gettati ma con questa lavorazione della maglia lunga ora il ferro numero due e il ferro di ritorno tutte le nostre maglie noi li andiamo lavorare a diritto come avete visto la lavorazione particolare del motivo consiste solo nel ferro numero uno ferro numero due è un semplice diritto questo ci permette appunto rendere la lavorazione di questo motivo ancora più semplici ancora più alla portata di mano anche dei principianti che vogliono appunto variare dei motivi magari applicando questi bellissimi motivi trafolati ed ecco qui una volta che abbiamo fatto il nostro ferro numero due non dobbiamo fare altro che andare ripetere la coppia di questi due feri per tutti tutta la lunghezza del nostro progetto quindi ora dovremo andare fare la nostra lavorazione che abbiamo fatto nel ferro numero uno in cui abbiamo creato le maglie lunghe e abbiamo fatto le nostre diminuzioni dopodiché tutto a diritto speriamo che questo motivo vi è piaciuto che siamo riusciti a spiegare bene tutti i passaggi in modo chiaro ovviamente se ci sono le domande ponetele qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità e non dimenticate appunto di attivare la campanella per ricevere la notifica quando esce un nuovo video tutorial in più ci potete venire trovare anche su facebook dove abbiamo sia la pagina che il gruppo dove potete venire condividere i vostri progetti le vostre creazioni alcuni magari che avete realizzato ispirandovi ai nostri progetti ai nostri motivi grazie a tutti e al prossimo video tutorial